Si terrà domani la prima conferenza dei servizi della provincia di Alessandria che dovrà valutare il rinnovo dell'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale alla multinazionale Solvei per le produzioni chimiche dello stabilimento di Spinetta Marengo. In questi ultimi giorni che precedono l'importante appuntamento di domani si sono moltiplicati i comunicati dei movimenti ambientalisti che vogliono richiamare l'attenzione di tutti sul tema inquinamento ambientale all'interno e all'esterno dello stabilimento in zona Spinetta Marengo. Fino a questo momento al centro c'è stata sempre la presenza delle sostanze chimiche nelle acque. Sull'argomento invece interviene anche l'ex assessore all'ambiente del comune di Alessandria Claudio Lombardi con un suo commento alla relazione della commissione parlamentare per gli ecoreati e scrive che da un documento emanato da ARPA, che è l'agenzia regionale per l'ambiente, a Spinetta esiste anche la presenza dei PFAS oltre che nelle acque, nell'aria. È precisa che nelle indagini condotte da ARPA nei primi mesi del 2020 l'ente regionale ha ricercato i PFAS la cui produzione è cessata nel 2013 e trovato che è ancora presente in atmosfera in quantità non trascurabili, 70 nonogrammi al litro. Questo, riassume l'ex assessore Lombardi, segnala che i PFAS forniscono un cocktail di sostanze tossiche e pericolose per la salute umana che gli abitanti della Freschetta e di Spinetta, in particolare, respirano ogni giorno da anni. E ancora chiede come la provincia, conosciuti tali risultati, abbia comunque concesso a Solvay, nei primi mesi del 2021, l'autorizzazione a produrre C6O4 senza alcun vincolo sulle emissioni in atmosfera. Anche Ligambiente, tra l'altro, interviene sull'appuntamento di domani in provincia per l'autorizzazione AIA e scrive «Ci siamo assicurati della consegna della relazione della Commissione interparlamentare d'inchiesta Eco-Mafie ai tribunali di Alessandria e Vicenza e alla provincia di Alessandria che ha convocato la conferenza dei servizi appunto per giovedì». È precisa, secondo la Commissione Eco-Mafie, i PFAS costituiscono un'emergenza nazionale, serve quindi una legge del governo. Grazie a tutti.